Eventi natalizi 2021 a Como, un lungo elenco di incognite e poco tempo a disposizione. Mancano infatti soltanto due mesi a Natale, ma ancora i cittadini comaschi non conoscono cosa accadrà in città durante le festività. Il 25 ottobre saranno aperte a Palazzo Cernezzi le offerte arrivate al bando per organizzare la manifestazione natalizia in città. Successivamente sarà formata una commissione per valutare la conformità dei requisiti e aggiudicare la gara. I tempi, come detto, sono molto stretti. Il 6 novembre chi si aggiudicherà il bando potrà avere a disposizione dal Comune le aree da allestire in vista dell'evento. Poi la chermesse vera e propria si aprirà il 27 novembre per concludersi il 6 gennaio del nuovo anno. Secondo le critiche del consigliere di opposizione Alessandro Rapinese, la gara pubblicata dal Comune non favorirebbe una concorrenza o l'ingresso di nuovi soggetti nel Natale organizzato in città. Il tempo per organizzare il Natale a Como è pochissimo, dice. Il bando a tempi molto stretti si rischia di disincentivare la partecipazione. E poi aggiunge, visto il poco tempo a disposizione o si è già organizzato un evento simile oppure per chi si dovrà adeguare sarà molto difficile. Molti ancora in odi da sciogliere in vista dell'evento. In primo piano il fattore sicurezza con tutta la serie di correttivi da mettere in atto per l'adeguamento alle normative anticontagio e per scongiurare possibili assembramenti. Seconda questione, ma non meno importante, legata al traffico. La convivenza tra Como e gli eventi di Natale è diventata con il passare degli anni sempre più difficile. Appuntare il dito contro il bando natalizio, come detto, è il consigliere comunale Alessandro Rapinese, lista rapinese sindaco. Un'amministrazione che impiega quattro anni per realizzare una rotonda, non credo che sia in grado di pianificare alcun piano del traffico o altri in vista degli eventi di Natale. Conclude, ai comaschi che ancora non conoscono come sarà il Natale 2021, dico soltanto che sarà l'ultimo con questa amministrazione.